Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.l' Intervento di Raimondo Todaro censurato da Amici è sulla bocca di tutti, finalmente esce fuori cosa ha detto veramente Negli ultimi giorni su Twitter t'è entrato in tendenza l'hashtag cancelletto Amici perché una parte della puntata è stata eliminata dalla produzione e quindi non è stata mandata in onda. Tutti si chiedono cosa sia successo, perché hanno scelto di censurare un pezzo del programma Finalmente è uscita la verità che vede come protagonista Raimondo Todaro Il maestro di latino americano si sarebbe incuriato con un collega, tanto che è servito l'intervento di Maria Come se non bastasse, Todaro avrebbe spifferato il nome della vincitrice, facendo infuriare anche la padrona di casa Ecco cosa è successo.Raimondo Todaro contro tutti, ecco cosa è stato censurato ad Amici I telespettatori sanno che le puntate di Amici sono registrate e proprio per questo in post-produzione gli addetti ai lavori potrebbero scegliere di apportare drastiche modifiche alla puntata Con quella dell'ultimo sabato, 8 aprile, è stato fatto un grande lavoro di taglia e cuci Infatti, la produzione non ha mandato in onda uno spezzone fondamentale in cui Todaro litigava pesantemente con Rudy Zerbi e in un momento di rabbia ha spifferato il nome del vincitore A raccontarlo sono stati i ragazzi nel pubblico che, notando la censura in prima serata, hanno utilizzato i propri account Twitter per raccontare quanto avvenuto veramente Con due suoi allievi a rischio eliminazione, Raimondo Todaro è scoppiato e ha rimproverato a Rudy Zerbi di aver mandato in sfida Angelina e non Cricca Zerbi ha ammesso di aver giocato di strategia, facendo infuriare ancora di più il prof di latino che ha perso la pazienza, tanto che è servito l'intervento di Maria Nemmeno le sue parole sono servite a calmare gli animi, perché si è scatenato un aspro dibattito tra insegnante e conduttrice Maria De Filippi attacca durante Raimondo Todaro.Durnate lo scontro Maria ha detto a Raimondo che il suo sfogo non era utile né per i concorrenti né per il programma perché avrebbero avuto come conseguenza smiguire Maddalena e far passare Angelina come la prima della classe Per Todaro, invece, è un'obvietà che Angelina sia la vincitrice indiscussa del programma, arrivati a questo punto, per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c'è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei, ha detto Ok Raimondo, se per te Angelina vince sto programma, dalle direttamente la coppa Che ci stiamo a fare qui se la pensi così? Arriba tutto infuriata Maria Poi, come sappiamo tutti, la produzione ha deciso di nasconderci questo scontro evitando di mandarlo in onda Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video